Certo che no! Al termine della prima fase dell'intervento, che prevede le estrazioni e l'implantologia, formuliamo una protesi provvisoria. In alcuni casi si tratta solo di qualche dente di rimpiazzare e in altri casi bisogna produrre una protesi che sostituisce un'intera arcata dentale. Tutte le protesi provvisorie vengono prodotte in laboratorio dentotecnico su misura del paziente rispettando la loro fisionomia, il morso e così via. Vorrei però sottolineare che le protesi provvisorie sono proprio quella, una soluzione provvisoria di passaggio e che non hanno niente a che vedere con il risultato finale dell'intervento.